Apericena musicali, lirica, jazz e un omaggio al maestro Ennio Morricone. E' questo il programma della 17esima edizione del Bitonto Opera Festival, che si terrà il 28 agosto, il 3 e l'11 settembre alle ore 20 nella masseria Lama Balice. Nonostante la pandemia da Covid-19, la Macina, associazione socioculturale, non ha voluto arrendersi e ha deciso, nel rispetto dell'enorme anticontagio, di proporre un programma light ma variegato. Si partirà già domani sera con la messa in scena dell'Impresario delle Canarie, intermezzo del Settecento su libretto di Pietro Metastasio e musica del pugliese Domenico Sarro. A calarsi nei panni dei protagonisti Nibbio e Dorina saranno il buffo Carlo Torriani e l'alto Camilla Antonini. I due artisti milanesi saranno accompagnati dal quintetto Gli Archi del Settecento e diretti dal concertatore e maestro al cembalo Leonardo Quadrini. Nato per alleggerire la tensione tra gli spettatori dell'opera serie a Didone Abbandonata, l'Inter mezzo buffo sarà rappresentato proprio per strappare un sorriso al pubblico. Oltre all'emergenza sanitaria, esiste un'emergenza vitale e il pensiero del maestro Carlo Antonio De Lucia, direttore artistico dell'Inter Arassegna. La cultura, la musica, la bellezza sono fondamentali per l'esistenza dell'uomo. Per questo, in piena sicurezza, abbiamo voluto rispondere a questa esigenza e regalare i momenti di spensieratezza. L'obiettivo sarà perseguito anche con gli apericena del 3 e dell'11 settembre, quando saranno proposti lo spettacolo Jets Around the World e l'omaggio a Ennio Morricone. Per riservare il proprio posto è ancora possibile chiamare i numeri 339 11 75 513 o 335 74 11 317. Anche quest'anno, il Bitonto Opera Festival cercherà di dare un contributo concreto alla comunità e non solo. Con la Fidas sosterrà infatti la campagna Donatori Sangue. Parte del ricavato degli eventi sarà inoltre devoluta all'associazione bitontina Amici del Cuore Giuseppe Albi per sostenere il progetto Bitonto Città Cardioprotetta. I fondi serviranno infatti a finanziare l'acquisto di defibrillatori da posizionare nella città e nelle frazioni di Palombaglio e Mariotto.